Io non ho le parole, io non ho le parole, io non ho le parole, ma che cosa ho visto oggi, che cosa ho visto oggi, perché ci sta che tu sta partita la perdevi, ci sta che tu sta partita la perdevi, perché ero già partito al presupposto che sta partita la perdevi, pensate un po' voi che mentalità, che mentalità mi si è creata dentro la mia testolina negli ultimi anni, ero consapevole che tanto tu con tutte le assenze, con tutti i problemi in sta partita non riuscivi a portartela a casa, ed è quello che è successo, ma non è questo che mi fa incazzare, perché sì, se perdevi la partita ero incazzato e verso il derby però dici vabbè ci sta per tutte le motivazioni che ho elencato prima, Ma io sono imbestialito per la prestazione, ma io sono imbestialito per le scelte dell'allenatore, perché adesso ho rotto il capo a me, adesso ho rotto il capo a me, perché non è possibile, non è possibile, perché io voglio partire da Tenac oggi, voglio partire dall'allenatore, perché tu oggi sei sceso in campo, lo United è sceso in campo con una formazione orrenda, Orrenda quando aveva la possibilità, quando aveva la possibilità di scendere in campo con un altro undici, perché siamo partiti con Lindelof a terzino sinistro quando avevi Reguione, per quanto a me faccia schifo Reguione, Reguione è meglio di Lindelof, E ha dato la piena dimostrazione oggi Lindelof di quanto faccia schifo da terzino sinistro, ma continuiamo a metterlo lì, a sto punto mettiamo la parte terzino sinistro, che fa meglio di Lindelof, no, Lindelof adesso si è impuntato che deve giocare a terzino sinistro, Ma non solo, perché a centrocampo pur de non mette Mount, perché non si sa cosa Mount abbia fatto, non lo so se, non lo so, l'ha insultato, gli ha detto che è impelato, non lo so, non lo so, io non so che dive, ma Mount nelle ultime partite non ha giocato mai, e oggi pur de non metterlo in campo ha ficcato Scott a centrocampo, ha messo un brabat sulla mediana, E sulla tre quarti ci ha infilato Eriksen spingendo Bruno esterno destro, addirittura, addirittura, il suo figlio, Anthony, colui che gioca sempre, oggi l'ha messo in panchina pur de non mette Mount, Cioè non è possibile questa cosa, qualcuno me la deve spiegare, qualcuno me la deve spiegare, perché poi non mi potete dire, Emma sta male, Emma fisicamente non sta ancora al cento per cento, Porcozio, poca nel secondo tempo se fa 45 minuti, se fa 45 minuti, adesso io non è che dico che Mason Mount è maratona, che prende palla e ti cambiava la partita, ma sicuramente fa meno danni di Scott, fa meno danni di Eriksen, anche se Eriksen oggi a centrocampo è stato il migliore in campo, il migliore in campo, Però certe decisioni io non le posso concepì, non le posso capì, non le posso capì, continuo a mettere Rashford titolare quando Rashford sta facendo piangere, però punisce gli altri, perché a mo' la meritocrazia, cioè la giustizia va utilizzata nei confronti di tutti, non perché quello te sta sul cavolo allora va fuori e quest'altro no perché me sta simpatico, Perché Rashford è 7-8 partite che fa sboccare, fa sboccare, anche oggi ha fatto sboccare, ha fatto 2-3 giocate così decenti, ma in generale fa cagare, fa cagare, lui deve stare in panchina, Cioè Garnaggio? No, Rashford continua a giocare, Scott non si sa per quale motivo era uscito dal progetto l'anno scorso a metà stagione, adesso me lo ritrovo titolare, Siamo arrivati a questo punto? Cioè dopo 6 mesi che si è lottato per buttar fuori Fred, per buttar fuori Scott, adesso io mi ritrovo con Scott e titolare Fred che è stato mandato a Fenerbahce, Ma allora a sto punto me tenevo Fred, ma a sto punto me tenevo Fred, che Fred è mille volte meglio in campo, questo lì non ci sa giocare e continua a giocare lì nel secondo tempo, Poi perché non è finito qui il danno che ha fatto lui, perché ne ha fatti altri due, nel secondo tempo sostituisce Ambrabat per far entrare Mount e lascia Scott in campo, Ma perché? Il motivo può essere solo perché Ambrabat si è fatto ammonire il primo tempo, allora cioè qui bisogna fare un altro discorso, Perché cioè tu cacci fuori Ambrabat perché ammonito, cioè che vuol dire? Che cosa vuol dire? Cioè uno viene ammonito, poi lo butti fuori, per paura che si fa butta fuori, Prendendo un altro cartellino giallo, ma non esiste, ma non esiste, è come se dici all'Arsenal che Arteta caccia Rice perché biacello nel primo tempo, O il City che caccia Rodri perché biacello nel primo tempo, ma non esiste una roba del genere, non esiste, io non sto paragonando Ambrabat a Rice, Rodri eccetera eccetera eccetera, Però vi sto facendo capire un concetto, cioè Ambrabat è colui che ti deve stare davanti a difesa adesso perché non c'è Casemiro, Se tu mi cacci Ambrabat e mi metti Scott e la situazione non la migliori, infatti lo United invece di migliorare nel secondo tempo è peggiorato, Perché non abbiamo chiuso il primo tempo bene? Perché avevo fatto i primi 40 minuti di merda, poi gli ultimi 45 con recupero, gli ultimi 5 con recupero abbiamo fatto bene, Tu mi hai cacciato Ambrabat e mi hai messo Scott sulla mediana per inserire Mount perché non si sa, Mount adesso è un po' più gioco a titolare, Ha fatto un disastro apocalittico tatticamente perché lo United ha perso il controllo del centrocampo per l'ennesima volta, Stiamo a parlare sempre delle stesse cose perché anche oggi lo United a centrocampo è stato imbarzante, Tu le partite non le perdi per la difesa, tu le partite non le perdi per l'attacco, anche per l'attacco che non segna, Ma tu le partite le perdi per il centrocampo, oggi nel secondo tempo quando tu eri sotto di due reti e dovevi provare a ribaltare la situazione, Dovevi cercare di pressare l'avversario, non potevi, non potevi, perché i due centrocampisti quando vanno a pressare lasciano dei buchi clamorosi, Poi non parliamo dei terzini perché Dalò, basta, io l'ho difeso ma mo basta, ci avevate ragione voi, Ridatemi Juan Bissaga perché preferisco uno che mi sa difende, che uno che non mi sa attacca ma mi sa difende, Che uno che sa solo attacca non torna indietro perché il secondo gol noi l'abbiamo preso per colpa di Dalò, Per colpa di Dalò, perché se voi andate a rivedere il gol che abbiamo preso, che parte tutto sulla fascia sinistra, La colpa è di Dalò che vado ad attaccare e poi non rientra, non rientra, e non è possibile vedere una roba del genere, Non è possibile vedere Rashford camminare, non è possibile vedere queste cose ogni anno, Ecco il City e vabbè lascia perdere perché il City è più forte, Ecco il Liverpool e vabbè lascia perdere perché il Liverpool è più forte, E mi sono rotto perché tu oggi non ti dico che la potevi vincere, Non sto a dire che la potevi vincere se mettevi dentro Reguillon e Mount, Ma sicuramente potevi gestirtela in maniera diversa perché io ero già partito al presupposto che questa partita la perdevi, Ma non in questo modo qua, ma io non mi posso vedere una squadra che sta lì e fa Torello, Cioè tu non riesci a prendere un pallone, nel secondo tempo è imbarazzante raga, Imbarazzante, imbarazzante, non sei riuscito a prendere un fottuto pallone, Un fottuto pallone e la maggior parte delle colpe stasera vanno a Tenag, Per quanto le colpe ce l'abbiano anche i giocatori in campo, Ma quando io vedo Eriksen che va a destra, a sinistra e alza le mani, Non si muove nessuno, nessuno sa quello che deve fare, Nessuno sa come si deve muove, Bruno Fernandes secondino a girare a vuoto, Cioè se voi vedete Bruno, Bruno per 90 minuti ha giocato a vuoto, Dopo la centina di sportivo, ma a un certo momento della partita, Quando tu giri per 80 minuti a vuoto, dove ricevi pochi palloni, Perché non sai dove devi mettere, perché non se sa la squadra come si muove, A un certo momento ti imbesselisci come se ti recalcioni da tutte le parti, Perché quello che è successo stasera, perché Bruno al settantesimo ha cominciato a dar calcioni a destra e a sinistra, Perché non riceve il pallone, non sa dove se deve muove, non sa dove se deve mettere, Non riesce a dare la palla ai compagni, perché i compagni stanno troppo lontani, Cioè dal centrocampo all'attacco, c'è, porcozio 20 chilometri, Roma-Milano sta più vicina, Mi viene da ridere perché veramente è una roba imbarazzante, Rido perché veramente è una roba imbarazzante, 20 chilometri di distanza tra centrocampo e attacco, Ma questa era una roba che non si vedeva manco dai tempi di moglie, Sveglia te, cioè qui non si sveglia, perché ha le sue responsabilità stasera, Ha le sue grossissime responsabilità stasera, Di che dobbiamo parlare poi? Della prestazione, che prestazione è? Ovviamente i giocatori hanno le proprie colpi, Ma quando uno come Oilund da spallata a destra, da spallata a sinistra, Tocca 37 palloni, ma poi se cira il compagno che doveva sta a destra, Non si sa perché viene spostato a sinistra, che è Rashford, Bruno che doveva sta, cioè se Bruno è esterno, deve rimanere esterno, Non è che Bruno va al centrocampo, Rashford va a destra, Non si capiscono tra di loro, Non segniamo perché i giocatori non si capiscono, Fanno tutte giocate in solitaria, Le occasioni che creiamo noi sono tutte giocate del singolo, E questa cosa è da settimane che ve lo dico, Sono tutte giocate del singolo, Non c'è costruzione nella manovra, Non c'è, E tu non puoi scendere in campo ad Oil Trafford, E fare una roba del genere, Non puoi, Non puoi, Perché poi mi imbestialisco, Perché non è possibile che gli ultimi sedici derby, Ad Oil Trafford o in generale la sedici l'ha vinta il City, Significa proprio che tu scendi in campo, Ormai è diventata così, È un'abitudine, Tu scendi in campo con la paura, Tu scendi in campo con la cosa che le prendi, Perché ormai è nata un'abitudine, Perché è da anni che ammo le prendiamo dal City, È da anni che le prendiamo dal Liverpool, E quindi quando tu scendi in campo ti tremano le gambe, E fai le cazzate, Non giochi bene, Perché stasera ragazzi, Stasera ragazzi, Se la partita non è finita 6-0, 7-0, Noi dobbiamo ringraziare quel portiere che mi ho preso all'Inter, Che ha fatto 3-4 parate clamorose, Ci ha tenuto in partita fino a che ha potuto, Poi è umano, Non le può parare a tutte, Ma questa è stata la miglior partita unana con la maglia di noi United, Non si può giocare così, E vi ripeto, Non è un concetto perché tu perdi 3-0, Perché tu sta partita la potresti perdere anche 1-0, Solo 1-0, Ma la perdi in questo modo? Raga, È preoccupante, Il centrocampo è disunito, La difesa si muove male perché il centrocampo non copre, Mount entra, Si muove, Anche lui non sa quello che deve fare perché è gestito male, Cioè, Svegliamoci, Perché io credo che da qui a licenziare Tenag, Ce ne passa, Ce ne passa ancora, De strada, De acqua ce ne passa ancora per arrivare a quel punto lì, Ma inizia a tremare la panchina, Inizia a tremare, Perché qui non stiamo parlando del Brighton, Dove te concedono, De perde 4-0, Non stiamo parlando del Fulham, Non stiamo parlando delle squadre con tutto il rispetto, De medio livello, Qua stiamo parlando di una squadra che i suoi soldi li ha investiti, E che i tifosi non pretendono di vincere la Premier League, Perché su 100 tifosi lo United, Inizio estate, Quest'estate, Penso che solo 10 dicevano, Voglio vincere, No, Voglio vincere, Dobbiamo vincere la Premier, Dopo è ovvio che tutti i tifosi vogliono, Ma, Il 90% dei tifosi lo United, Erano consapevoli che quest'anno l'obiettivo era la Champions League, Riqualificarsi, Cioè, Questo sta diventando impossibile, Perché vedendo come corre il Tottenham, Vedendo come corre l'Arsenal, Il City, Il Liverpool, Il Brighton, Tu non ci arrivi, Cioè, Mettetevelo bene in capoccia, Che se questa cosa non cambia, Sto copione, Stalini, Chiamatela come cazzo volete, Non cambia, Tu, In Champions, Non ci vai, E i soldi della Champions, Perché io penso anche al topo, I soldi della Champions, Per noi, Sono importanti, Per noi che viviamo in una situazione societaria, Imbarazzante, Dove non si sa se la società viene venduta o no, Quindi non si sa nemmeno se ci sarà il budget, Da spendere sto mercato invernale, Perché abbiamo bisogno di almeno 2-3 giocatori, E non arriveranno mai, Perché non arriveranno mai, Se tu non ti qualifichi in Champions, Il discorso si amplia pure per il mercato estivo, Perché rischi pure di non comprare i giocatori in estate, È follia, Ma io, Io personalmente, Da tifoso, Per quanto voglia bene a Tenac, Per quanto lo continuerò a difende, Queste, Non sono, Prestazioni, Giustificabili, Le assenze, I problemi, Gli infortuni, Le prestazioni, Non i risultati, Le prestazioni, Non sono giustificabili, La prestazione col Copenhagen, Non è giustificabile, La prestazione contro lo Schelf United, Non è giustificabile, La prestazione contro il Manchester City, Non è giustificabile, Non si può giustificare determinate prestazioni, Perché il risultato è una cosa, La prestazione ne è un'altra, Queste prestazioni non sono giustificate, Non si possono giustificare, Non si possono, Adesso io non, Ragazzi non c'ho manco, Posso dire la sincera verità, Non dico che, Mi sia passata la voglia, Però veramente, Ultimamente, Io penso che prima o poi, Mi ci viene una malattia, Perché, C'è stai male, Dopo la gente ti dice, Vabbè, Uno sport, Il calcio, Ma che ce fai, Finisce la partita, È finito tutto, Io non so affatto così, Ragazzi, Non so affatto così, Cioè, Per me lo United, È molto, Molto importante, A me mi rovina i weekend, Mi rovina le settimane, Cioè io adesso, È finita la partita, Sto male, Non è che sto male, Che oddio, M'è morto qualcuno, Però stai male, Cioè un pochetto, Stai, Più che stai male, Proprio stai incazzato, Stai imbestialito, Ti gira male la giornata, E sento che io, Settimana prossima, Lunedì devo lavorare, Martedì devo lavorare, Mercoledì, Cioè ragà, Mi è arrivato qui, Qui, Perché ogni anno, È sempre la stessa, Fottutissima storia, Ogni anno, Te va un anno fatto bene, Poi l'anno dopo, Ricominci a capo, Perde così il derby, È diventato un'abitudine, Ragà, È diventata un'abitudine, Che vi devo dire, Che devo fare, Io più di di questo, Non posso fare niente, Poi sì, Infortuni, Sembra la stessa cosa, Ma non è giustificabile, Tutto quello che sto vedendo, Non è giustificabile, Che non rischiamo, Rischiamo di non andare agli ottavi, Non è giustificabile, Che rischiamo di non qualificarci in Champions, Non è giustificabile, Che in Coppa, Tanto con Lucas, E vai fuori, Perché se giochi così, Vai fuori, Perché quelli te fanno il mazzo, Perché già ce l'hanno, Con noi per l'anno scorso, Per la finale, Questi te piano, Ti incartano, E ti buttano via, Non è possibile, Non è possibile, Qua la colpa non va data manco a Tenag, Perché qui ci permette pure Cristi, Madonni, Ma tanto la situazione, È sempre quella, Però oggi, Va data responsabilità a Tenag, Va data assolutamente responsabilità a Tenag, Perché questo, Questa partita, Tu l'hai giocata così, Perché l'hai voluta giocare così, Lo United oggi è sceso in campo, Per giocare a De Rimessa, Perché quando tu scendi in campo, Con Scott, Eriksen, Maguire, Lindelof, Terzio sinistro, Quando scendi con questi giocatori qua, Che tecnicamente, Soffuffa, Togliendo Eriksen, E Sollenti, Tutti quelli che ho nominato, Che succede? Che tu, Giochi De Rimessa, Tu provi a giocare con, Un 4 in difesa, Che diventa 5, Cerchi, De buttare sul pallone, De giocare De Rimessa, Una volta te va bene, Due volte te va bene, E poi quando affronti una squadra tosta, Che c'ha le palle, Te butta per terra, E te piglia schiaffi dal primo all'ultimo minuto, Come è successo oggi, Oggi la prestazione ragazzi è imbarazzante, Imbarazzante, Cioè, Soprattutto dal settantesimo in poi, O proprio, Cioè c'è gente che ha pagato il biglietto, Io pago l'abbonamento, Per vedere sto scempio, Dei giocatori che girano vuoto, Non prendono mai la palla, Le occasioni che tu crei sono sempre uguali, Palla Rashford, Rashford uno contro uno tiro, Palla Oilund, Uno contro uno tiro, Palla quello, Uno contro uno tiro, Sempre, Tutte, Uguali, Non ho altro da dire, Mi sono veramente, Rotto i coglioni,